Nel corso degli anni Simatec si è evoluta, diciamo che ha sviluppato una tecnologia d'avanguardia che ci ha permesso di abbracciare più settori. Questo è stato possibile grazie allo sviluppo dell'ingegneria interna, ingegneria intesa come ingegneria meccanica e ingegneria software, in quanto è il nostro risorso principale e il nostro cuore di azienda. Abbiamo deciso di partecipare a questa fiera poiché siamo presenti già nel settore da diverso tempo, sia per la fornitura di impianti a clienti finali che ai impiantisti. Questo ci ha permesso di partecipare alla fiera ma anche di essere presenti per le nuove tecnologie da proporre a nuovi clienti. Offriamo quindi soluzioni di processo automatizzate in base alle esigenze del cliente e alle attività produttive di cui necessitano. La tecnologia che noi proponiamo non va a sostituire la mano d'opera, ma bensì la rende più semplice, la rende più sicura, aumenta la produttività anche dell'operatore stesso, perché offriamo un'automazione semplice e produttiva. La tecnologia che proponiamo aumenta la produttività, aumenta la sicurezza e soprattutto riduce i rischi.